Settima corsa del convegno, la prima delle due riservate ai gentlemen, il premio Yuma e Kappa, un miglio per tre anni a reclamare, sono in undici al via. La prima fila per Torsili, Tracmar, TTB Power, Tango Quick, Tosca F, la favorita in chiusura di gioco, Teadiel e Totonno, seconda fila per Tundras, Teresita GK, Temeratolse, Trevit B. Quindi, incertezza prima del via per Totonno che ora replica, imitato da Teresita GK, allo stacco della macchina emerge molto nettamente Tosca F nei confronti di Tracmar, sbaglia anche Torsili, in terza posizione invece va a TTB Power, a precedere Tundras che è partita bene dalla seconda fila, poi ci sono ancora Temeratolse, Trevit B e Tango Quick all'esterno che ripiega in coda. Sullo slancio prende vantaggio Tosca F, il quarto di avvio in 29.7, un paio di lunghezze di vantaggio su Tracmar, quindi TTB Power, Tundras, Temeratolse all'esterno, cerca di farsi avanti Tango Quick, seguito da Totonno Rimesso, poi ancora Trevit B che ha all'esterno, TADL, c'è il rallentamento ora da parte di Tosca F, Tracmar torna a diretto contatto dell'avversario, il mezzo miglio iniziale in 1.3 scarso, si viaggia sul piede dell'1.18.5, con Tosca F in vantaggio su Tracmar, quindi TTB Power, Tosca F che completa il chilometro in 1.18 secco, seguita sempre da vicino da Tracmar, mentre si ripropone molto bene in terza ruota a Totonno, trascinandosi TADL, Totonno che giunge al salchi di Tracmar che segue sempre Tosca F, tende ad anticipare Totonno, poi TADL che affianca TTB Power, quindi ancora Tundras, siamo all'ingresso in retta d'arrivo con Tosca F in vantaggio su Tracmar, Totonno generosamente all'esterno, poi TADL che ha all'interno TTB Power, Tosca F in vantaggio su Tracmar e Totonno, poi a largo di tutti cerca di migliorare Tundras, è ancora in vantaggio Tosca F su Tracmar, Totonno, Tundras che finisce forte a largo nel finale, Tosca F che stacca, Totonno che rimonta a Tracmar, vince Tosca F su Totonno, Tracmar e Tundras, facile la vittoria di Tosca F e Matteo Zaccherini, ma eccellente anche la rincorsa di Totonno che aveva sbagliato prima del via, poi ha costruito all'esterno ed è finito ancora ottimo secondo, 5-7-2 l'arrivo ufficioso della settima di Capannella e sul mio cronometro 2-1-6, media di 1-16 secco per Tosca F numero 5, figlia di Naglò, con il training di Gennaro Casillo al doppio dunque in giornata nei confronti di Totonno, ottimo secondo e al terzo posto il 2 di Tracmar davanti all'otto di Tundras, 5-7-2 l'arrivo ufficioso. Grazie a tutti.